13 millisecondi è il tempo minimo che serve al cervello per catturare un'immagine. Molto di più il tempo che serve a cancellarla. Ottobre 2015. Il corpo del piccolo Aylan viene ritrovato senza vita sulla spiaggia della costa turca di Bodrum. Scappavano dalla Siria, volevano raggiungere l'Europa, sono stati travolti dal mare. Sono passati tre anni, è arrivato un altro Natale, altre luci, altri regali da comprare, altri presepi da allestire. Ne ho trovato uno speciale quest'anno, che mi ha colpito come un pugno nello stomaco e che impone a chiunque lo guardi di non dimenticare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.